Un altro modo di fare sport nelle sale Mr. Toto e Easy Play a Marina di Gioiosa Ionica. Scommesse sportive, gratta e vinci, proiezione eventi sportivi 24 ore su 24 e internet point da Mr. Toto. Sala videolotteri, poker online, news slot e angolo bar da Easy Play. In via Piero Gobetti a Marina di Gioiosa Ionica. In via Piero Gobetti a Marina di Gioiosa Ionica.